Vivibilità e sicurezza sono gli obiettivi del progetto Comunità Sicure, frutto dell'accordo tra Comune di Piacenza e Regione Emilia-Romagna che riguarderà l'area della Cavallerizza sullo Stradone Farnese. Le azioni che verranno poste in essere sotto il profilo della riqualificazione ambientale del contesto prevedono l'incremento del sistema di videosorveglianza, l'integrazione di nuove panchine e la manutenzione straordinaria dell'area. In parallelo sarà potenziata l'azione educativa indirizzata alle aggregazioni giovanili che frequentano la zona. Un intervento cui si affiancherà un'attività di comunicazione rivolta ai cittadini residenti per promuovere il loro attivo coinvolgimento e l'impegno civico. È previsto comunque che gli educatori e gli animatori di strada coinvolti potranno spostarsi liberamente e intervenire in altre zone della città a seconda delle esigenze del momento e dei problemi riscontrati settimana dopo settimana. Il Comune di Piacenza ha quantificato il costo complessivo del progetto in 130.000 euro a fronte dei quali l'importo del contributo regionale concesso è pari a 103.800 euro. Ringraziamo la Regione Emilia Romagna, ha dichiarato l'assessore Luca Zandonella, per il contributo che ci ha concesso. Siamo soddisfatti che abbia riconosciuto la serietà del progetto presentato che qualifica il Comune di Piacenza come ente attento e in prima linea alla sicurezza dei cittadini, ha concluso l'assessore.